Due giorni dedicati alla ginnastica ritmica. Roseto degli Abruzzi ospiterà le nazionali dove la disciplina olimpica ha visto la luce. Una a due giorni dove i rosetani e non solo avranno la possibilità di seguire le evoluzioni degli atleti migliori al mondo. Arriveranno atleti da varie parti dell'Europa e quindi è un evento di portata internazionale e che per noi è un lustre e un vanto. Io voglio ringraziare la signora Irina Gromova che è la direttrice dell'Andromeda e l'associazione Andromeda che è l'anima di questa iniziativa. Quindi è chiaro che è anche un motivo di incontro fra i giovani di queste nazionalità diverse e anche i nostri ragazzi e quindi anche per far conoscere la città di Roseto e l'Abruzzo anche fuori dai confini nazionali. Il nostro obiettivo è quello appunto di far conoscere questa disciplina la ginnastica ritmica nata nei paesi dell'Este ma molto radicata sul nostro territorio. È una disciplina a carattere olimpico, è una disciplina prettamente individualista praticata da bambine e il nostro obiettivo appunto è quello di divulgare la cultura della ginnastica ritmica in Italia e principalmente nella nostra cittadina. Il livello è sicuramente altissimo, di questo si deve tenere conto, non a caso il presidente di Andromeda sottolineava che la ginnastica ritmica è nata nei paesi dell'Este e quindi ovviamente c'è questo tipo di costruzione. Il livello è sicuramente altissimo e sarà bene che il pubblico venga a vedere una disciplina da noi che sta partendo ma che è sicuramente molto bella e molto importante.